Tantissima gente per dare l'ultimo saluto ad Antonio Intermite, da tutti affettuosamente ribattezzato con lo pseudonimo di Gioppino. Conosciutissimo in città Taranto per essere uno dei sostenitori più rappresentativi della curva nord dello stadio Iacovone, scomparso a soli 49 anni. Gremito il sagrato della chiesa Madonna del Rosario di Statte, c'erano centinaia di tifosi in rappresentanza di tutti i gruppi organizzati del tifo tarantino. Lo avevano definito il gigante buono per via della sua statura imponente che ben si associava alla proverbiale simpatia. Al termine della funzione religiosa c'è stato un lungo momento di commozione quando uno scrosciante applauso ha salutato l'uscita dalla chiesa del feretro avvolto da sciarpe e maglie rosso-blu. Sarai sempre con noi, questo è il coro scandito dei tanti presenti, infine l'ultimo simbolico viaggio verso quella curva nord che ogni domenica lo vedeva sempre in prima linea.